Vi raccontiamo la storia di Maria Grazia Davoglio, triatleta, buongiorno. Buongiorno. Allora Maria Grazia, intanto una eccezionale impresa che hai fatto, possiamo proprio definirla così, perché a Cervia hai partecipato appunto all'Iron Man. Che significato ha avuto per te questa, diciamo, gara? Allora, intanto dovremmo raccontare un po' il mio percorso. Io sono dal 2015, 2014 insomma, che mi hanno diagnosticato un tumore, quindi da allora ho subito tre interventi, ho dovuto fare la chemioterapia, quindi fare un Iron Man per me è stato, cioè diciamo così, mettere un punto, ricominciare un pochino a vivere in modo più normale, con meno paura. E quindi niente, io la definisco un'impresa non tanto sportiva, perché ai tempi è chiaro che ho anche 60 anni, quindi diciamo che l'Iron Man per me, la stranezza del mio Iron Man rispetto a tutti quelli che avevo attorno, più rispetto più alla malattia l'ho trovato anomalo rispetto all'età. Capito? Quindi diciamo che per me è stata così, una rivalza, una rivincita sulla vita, sulla malattia, su queste cose. Un percorso di malattia che tu appunto hai raccontato, che stai continuando a lottare. Sì, 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 sto facendo una terapia sperimentale. Al core. Sì, al core. Infatti io dico sempre che ho avuto parecchia fortuna a trovarmi a Reggio, a trovarmi seguita dal core, ed essere seguita in un modo veramente... Lo sport è stato per te, possiamo dire, un modo anche per affrontare la malattia? Sicuramente, cioè fondamentale. Io facevo sport prima, quando è arrivata la malattia, diciamo che è stato lo strumento che è riuscito ad aiutarmi a convivere con la malattia, perché comunque grazie allo sport fisicamente ho avuto una risposta buona, cioè non mi sono sentita distrutta dalla malattia, soprattutto dalle terapie, perché... Tra l'altro tu hai fatto e fai anche una battaglia, diciamo, rispetto ai termini, perché tu hai sempre detto, dobbiamo anche affrontare la parola cancro, non avere un tabù. Sì, perché praticamente io vedo che quando si parla di cancro, di tumore, cioè in linea di massima c'è un irrigidimento, la gente non ne vuole parlare o dice la malattia, il male. In realtà io credo oggi di poter essere un esempio, di poter dire che grazie alla ricerca, grazie alle terapie, ci si può convivere. E' chiaro che cambia la qualità della vita, cambia soprattutto la testa, ti cambia molto il fatto di convivere con una malattia che può ripresentarsi. Però è anche vero che adesso abbiamo la consapevolezza che si può convivere, quindi bisogna, secondo me, proprio sminuire il termine per far sì che quando capita, si spera sempre a meno gente possibile, ci sia meno paura e si viva con un po' più di serenità. Io ti volevo chiedere, quello che immagino si domanderanno i telespettatori a casa, ma come si fa appunto con un cancro, una malattia, con un percorso che si affronta, poi a fare sport a così grandi livelli, perché anche una gara Ironman è qualcosa di faticosissimo. Cosa hai dovuto fare per l'Ironman? Allora... Intanto cosa significa? Sì, intanto partiamo dal fatto che io dico sempre che l'altra mia fortuna è essere arrivata alla malattia sana, fra virgolette, cioè forte, quindi ero abituata a fare maratone, sforzi di un certo tipo, per cui farli in uno stato di debilitazione per me non è stato uno shock, cioè sentivo ovviamente, sento che non vado più come prima, che non faccio quello che facevo prima, ma ho un metro diverso, secondo me, rispetto a chi non ha mai fatto attività sportiva. Quindi è un buon motivo per fare attività sportiva sempre? Da prima, anche perché stressandoci, fra virgolette, in modo buono, il corpo, secondo me, i campanelli di allarme del nostro stato d'animo e fisico ce ne accorgiamo prima se c'è qualcosa che non va. È stato così per te oppure nel tuo caso? Nel mio caso è stata una roba abbastanza improvvisa, ma comunque ero integra su tutto il resto, quindi... Avevi un fisico forte che ha potuto affrontare meglio. Mi veniva in mente, quando stavi parlando, che se non sei in forma adesso, tu dici, non sono come un tempo, ma allora chissà cosa potresti fare se fossi come un tempo, perché hai dovuto fare cosa per l'Ironman? Allora, intanto l'Ironman sono 3,8 km di nuoto in acqua e libere, 180 km di bici e 42 km di corsa. E diciamo che con la mia età, appunto i 60 anni, le terapie che sto facendo non è che l'ho potuto improvvisare in tre mesi, fatto, no. Io ho cominciato, quando con la terapia sperimentale ho visto che cominciavo ad avere una qualità di vita discreta, ho detto, ma io intanto comincio a provare a fare un mezzo Ironman e quindi nel 2000, cioè l'anno scorso, nel 2020, no, nel 2021, ho fatto il mezzo Ironman dell'Isola d'Elba, che è stato estremo perché le condizioni meteo erano terribili. Quindi, siccome sono riuscita a portarlo a termine, ho detto, ma quasi quasi, mi butto e provo a fare l'Ironman. Quindi ho iniziato praticamente a dicembre, novembre dell'anno scorso, per essere pronta quest'anno a settembre. Sei contenta, immagino, di averlo finito, ma anche del tuo tempo, di come l'hai fatto. Sì, no, beh, serenissima. Te lo aspettavi di riuscire a finirlo? Era una grande sfida? Diciamo che mi ero preparata tantissimo. Io ero sicura che se il meteo fosse stato dalla mia parte, io volevo stare nei tempi limite. Ecco, che tempi hai fatto e come ti sei posizionata? Sono 16 ore, tempo massimo. Io ne ho messe 14 ore e 15. Eravamo della mia età, eravamo in nove, sono arrivata settima. Però, insomma, la posizione penso che sia relativa. E complessivamente quanti erano gli atleti? Eravamo 2005. Conosci la classifica complessiva o non te lo sei posto? No, 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 perché sinceramente per me è stata già una vittoria uscire dall'acqua e quando sono uscita dall'acqua ho detto, adesso mi metto qua tranquilla e porto a casa tutto il resto. Non l'abbiamo detto e tu pratichi con la Galileo Triathlon, erano con te? Sì, sì, eravamo in parecchi della nostra squadra. Anche questo ha aiutato tantissimo perché comunque la Galileo Triathlon adesso, secondo me, è diventata una squadra veramente molto affiatata. Siamo in tanti e ci si aiuta perché anche fare gli allenamenti in compagnia, sostenersi a vicenda, il tifo degli altri, insomma, è stato importante. Ti volevo chiedere altre due cose, la prima è i medici che ti stanno seguendo e ti seguono, cosa ti hanno detto, l'hanno saputo, ancora non vi siete contattati? No, no, purtroppo li vedo tutti i mesi, quindi... E continua la tua terapia? Sì, sì, tutti i mesi sono sotto controllo e diciamo che sono un po' senza parole perché comunque, cioè, un po' per il percorso e gli interventi che ho subito, un po' per la terapia che sto facendo, però sono qua, ci convivo bene. Per loro è stato anche qualcosa di stupefacente? Sì, 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 sicuramente sì. Senti, invece volevo chiederti, prima di salutarti, quali sono le prossime sfide, i prossimi traguardi, i prossimi impegni? Diventa difficile porsi delle altre sfide perché l'Ironman credo che sia il massimo. Diciamo che farò sicuramente delle altre gare, tipo dei mezzi Ironman, delle cose carine anche per stare nella squadra alla quale sono molto affezionata. Io e mio marito amiamo tantissimo la bici, abbiamo già fatto un paio di viaggi in bici e ne faremo, abbiamo il programma di farne un altro per l'anno prossimo, insomma. Quindi tanta bicicletta e poi niente, cerchiamo di seminare il più possibile lo stile di vita sano e sportivo. E' capitato di incontrare nel tempo delle persone che magari hanno seguito la tua storia e ti hanno detto che è stata di aiuto anche, che è di aiuto la tua lotta? No, continuamente, ma faccio fatica a spingere chi non ha mai fatto sport prima della malattia a stare sulla fatica. Non so se riesco a essere chiara. Cioè quando non sei abituato a stare un po', perché correre, insomma, qualche dolorino salta fuori, stare in bici, idem. E spiegare a qualcuno che ha subito il dolore della terapia, tipo la chemio, dopo riuscire a farlo stare sul dolore, dolore che non è un dolore grave. Sono dolori diversi. Dolori diversi, la fatica sportiva, si fa fatica. Invece può essere anche d'aiuto per affrontare la sofferenza del cancro, della terapia? Sì, sì, sì. Io ho tantissime volte. Io ho fatto 150 ore di chemio in tre anni, per tre volte consecutive. E quando ero in terapia, che avevo i fastidi, le cose, dicevo, beh, insomma, sono riuscita a fare quella maratona che ho sofferto tantissimo, devo superare anche questo. Cioè, e quando faccio fatica adesso, dico, beh, sono riuscita a sopportare la chemio, devo superare anche questo. Cioè, è un meccanismo. Assolutamente. Noi ti auguriamo veramente il meglio in tutto. Grazie per essere stata con noi. Grazie mille a voi di avermi ospitato. Grazie mille a voi.